centinaia di migliaia decine di migliaia unità di migliaia centinaia decine unità leggiamo il numero 928.353 309.835 891.440 301.549 264.600 110.987 vi do questa scomposizione e voi dovete comporre il numero queste sono le casette centinaia di migliaia decine di migliaia unità di migliaia qui c'è il gatto che dice mila centinaia decine unità però sono stata cattiva le ho messe in disordine attenti alle case 5 decine di migliaia va qui 6 decine va qui una unità di migliaia va qui 8 unità va qui in questa casella vuota ci mettono zero leggo 51 mila e 68 anche questa volta sono in disordine devo solo stare attenta alla casa giusta un centinaio di migliaia va qui 7 decine di migliaia qui 8 unità qui 8 decine due centinaia qui non c'è niente quindi ci mettono a zero leggo 170 mila 288 grazie